I morti sono i miei pazienti e io li tratto con rispetto. Ma ci devi per forza parlare? Mi serve il tuo aiuto per dire al mondo cosa ti è capitato. Giocare a football ha ucciso Mike Webster. Sta facendo la guerra a una corporation che ha 20 milioni di persone ogni santa settimana. Quello che crede li stiano facendo non è niente. Una battaglia indimenticabile nel mondo del football, tratto da una storia vera. Will Smith in Zona d'Ombra. Una scomoda verità. Questa sera, 21.10, Rai Movie.